E' stata in arrivo a Torre del Greco e con essa le prime criticità legate ad uno dei luoghi principali della stagione estiva in città, il porto. In particolar modo l'area portoscala da mesi teatro di assembramenti, disordini e risse. Questo quanto emerge dalle segnalazioni di abitanti ed imprenditori del luogo. Le persone in strada si trattengono fino a tardanotte, ignorando anche il limite imposto dal coprifuoco. Venditori ambulanti, probabilmente sprovvissi di licenza, forniscono bevande, anche alcoliche, agli avventori che successivamente alla consumazione finiscono per gettare bottiglie e rifiuti vari nelle aree circostanti. Nella zona, oltre a risse e ad aggressioni, sono stati denunciati anche i furti e danneggiamenti delle auto in sosta. Una situazione di criticità alla quale bisogna porre il rimedio al più presto. Bisogna vigilare e controllare per preservare la sicurezza dei cittadini e gli sforzi degli imprenditori. Queste le parole del consigliere comunale Vincenzo Salerno. Da qualche giorno in quest'area si manifestano con maggiore continuità. Questo perché inevitabilmente con l'incidere della bella stagione è diventata area di incontro, soprattutto con la presenza dell'area qui dietro di giardinetti pubblici, la presenza di locali che hanno investito sulla zona e che quindi sono attrattore di presenze. Ed è proprio questo l'aspetto più interessante, quello che in una città come la nostra, che non ha delle peculiarità industriali o manifatturiere, ma che vive di turismo e di servizi collaterali a turismo, uguale le nostre eccellenze neogastronomiche, si pone ancora più necessario garantire dei presidi e la presenza del territorio in queste zone così da permettere che tutti i sacrifici che amministrazione ma soprattutto i privati fanno per accogliere turisti e ospiti fuori città, fuori regione e addirittura fuori confini nazionali non venga poi vanificato dallo stato di pericolosità che si vive in zone come questa. Servirebbe quindi una sorveglianza, una vigilanza per poter mettere in sicurezza i cittadini della zona? Assolutamente sì, io sono nato e cresciuto per 35 anni a pochi metri da qui, ricordo quando vent'anni fa questa zona era veramente pericolosa perché era la zona preferita dai tossicodipendenti, c'erano numerosi momenti di microcriminalità. Col tempo e con varie decisioni si è migliorata inevitabilmente la situazione, c'è stato lo stimolo per far investire in maniera convinta e profonda dei nostri concittadini ma ora è il momento del salto di qualità allo stato, il comune e quindi chiedo al sindaco in primis di creare un tavolo di servizi per concertare insieme al prefetto, ai carabinieri, alla polizia un monitoraggio sempre più profondo ed efficace del territorio partendo soprattutto nel periodo estivo da zone come questa e la litoranea così che non vandano vanificati tutti gli sforzi fatti soprattutto dai nostri concittadini imprenditori.